Allora, poi dopo, poi, chissatemi un secondo, chi vuol decidere di tornare alla nave? E mi solo esplicitamente costegnare questa torata? Vabbè, perché tu hai fatto vedere il centro storico, tu hai visto? Verso le quattro e un quarto si parte da qui, però se uno vuole andare via per quanto è suo, sa che la nave è là. Quindi lì c'è il centro, vedei, le compre, qualsiasi c'è il barco. Andiamo qui, se lo farei bagno? Qui sarà la nave, va bene? Allora, guardiamo la piazza, torno alla nave di 24. Andiamo a un pedaço di praia, qui di Corfu. E là in fronte, la nave, la nave MSX Fattagia, come dicevano gli italiani. Allora, guardiamo il nostro navio, la ila e un pedaço di praia. Io credo che i europei realmente fanno fascinati per il Brasile, perché c'è una grande e extensa faixa di praia. Qui ci hanno piccola di praia, sono molte, ma piccola, ma piccola, ma piccola, ma piccola, ma piccola. Sono così, questo modo. Sono diversi trechos di praia, diversi. che sono rimani all'interno del mese metritte di praia Generale. Quindi sta a questa un'interruzione oro La tanna! Sono sicura booth La viaと il giorno La via Western F egg Alto Sci Dreams Abe Adam Grazie a tutti.